A ottobre si inizia a piantare anche l'aglio. Vi consiglio di comprarlo direttamente in bulbi, l'aglio affronterà in maniera eccezionale l'inverno, si accrescerà e sarà pronto in primavera. Anche l'aglio, stessa identica funzione della cipolla, quindi ottimo in cucina e repellente contro gli insetti. Altro ortaggio che vi consiglio di piantare nel mese di ottobre è il carciofo. Ci sono le piantine in commercio, se le piantate ora avrete i primi carciofi in primavera. Sappiate che se piantate i carciofi attirerete tutte le lumache della zona.